Ci troviamo nelle aree di cantiere della nuova viabilità di collegamento tra il casello autostradale di Genova Pra e il terminal contenitori. Alle mie spalle vedete il varo della prima campata definitiva del nuovo viadotto. In particolare questa è la campata numero 6 che si appoggia sulle pile 5 e 6. L'impalcato che abbiamo varato ha una lunghezza complessiva di 56 metri e un peso di 240 tonnellate circa. Prima di procedere alle operazioni di sollevamento e di varo la direzione lavori ha completato tutte le attività propedeutiche di controllo. In particolare abbiamo controllato in officina e in cantiere la qualità dei materiali, le verniciature adottate, la qualità delle giunzioni saldate realizzate e il corretto serraggio delle bullonerie. In totale le campate che compongono il nuovo impalcato sono 11 e nelle prossime settimane vareremo la campata numero 5 e la numero 7 sempre lato mare. A fine aprile e inizio maggio vareremo la campata più significativa ed importante cioè quella che permette lo scavalco della linea ferroviaria Genova 20 miglia e del parco ferroviario a servizio del terminal. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!